Bella è la vita che se ne va Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno Oggi ritrovo speciale dalla Pineta Sarà un video molto veloce Tra l'altro mi metto il cappello così da serio Il cappello così da giovane Ma guarda quanti anni ho perso Cioè lo metto così almeno 10 anni in meno 10 in meno Se no lo posso mettere così Sgana way, sgana way, sgana way Però preferisco essere giovane Solo per oggi, ormai sono vecchio Quindi cerco di detrarre la mia età Ma parliamo di cose serie Tornati Maldini e Zoroboban Molto molto bene, finalmente ufficiale Ormai lo sapevamo da tempo Però è diventato ufficiale Questo non ci porterà ovviamente Nulla quando si gioca Però se ci sono Maldini e Boban Vuol dire che c'è un progetto Progetto Un progetto serio Perché altrimenti non avrebbero mai accettato Soprattutto Boban Anche Maldini comunque Entrambi si sono entrati Perché c'è un progetto serio Quindi amici miei Mettiamoci nella capoccia Questa qua Questa capoccia qua Col ciuffo Mettiamoci nella capoccia Che dovremmo fare Un anno Di sacrificio Cioè quest'anno Potete anche spegnere il televisore Che tanto noi giocheremo Se tutto va bene Per il quarto posto Perché tanto Juve, Napoli e Inter Sono a lottare per lo scudetto Sperando che non lo vinca l'Inter Ma è una speranza Diciamo Abbastanza Ma poca speranza Nel senso che non lo vincono mai Quindi non è che Devi fare questa grande speranza Cioè dovrebbe capitare Un caso eccezionale Che può essere Però sai Rimane sempre un evento Di quelli proprio rari 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 Detto questo Noi lotteremo per il quarto posto Quindi le nostre avversarie Quali sono Roma Lazio E Atalanta L'Atalanta che vuole prendere Muriel Ho sentito che anche il Milan Finalmente inizia a pensare a Muriel Anche perché Il rapporto qualità prezzo è ottimo Anche tenerlo come terzo attaccante Io lo prenderei Tutta la vita Muriel Perché c'hai colpi Non mi piace tanto Quando cammina per il campo Ogni tanto Muriel è uno che prende Cammina per il campo Però io gli farei giocare Sempre 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 Gli ultimi 20 minuti Tipo Serginio Anche se Serginio giocava Tutta la partita Io l'avrei messo sempre Gli ultimi 20 minuti Serginio Che entrava e spaccava le partite Muriel secondo me può fare una roba Di questo tipo Se mai lo dovessimo Prendere speriamo Intanto comunque inizia a sentire nomi Ieri vi parlavo di Manolas Si parla della gente di Kramaric Cioè Iniziamo già A prendere A parlare di nomi Più interessanti Non so Sensi Ancora Sensi Gente che ancora vuole Sensi Piuttosto Guarda Sentivo parlare di Torreira Dell'Arsenal Dubito che possa venire Perché lì all'Arsenal Comunque è andata a fare Una finale di Europa League Sta facendo bene Però Un conto che spendi 30 milioni per Torreira Che io non li spenderei comunque Ti dico la verità Però Un conto è quello Un conto che va a prendere Sensi Che non ha fatto nulla Nulla Più di 15 milioni Non li vale Non li vale Non li vale Comunque ragazzi Adesso vado a giocare C'è la seconda partita Sapete che sono in vacanza Quindi oggi Video molto breve Per la contentezza Di alcuni Che mi dicono Ma perché non fai video più brevi Perché se no Youtube non mi paga Dovrei far pagare a te Invece così Almeno Poi mi paga Centesimi Però Almeno Il lavoro che faccio Tutta questa operazione Di simpatia Disturbo Rompimenti di scatole Eccetera Che faccio a voi Ovviamente Mi diverto Almeno Ha un senso Un senso Dove Sensi non ce l'ha Un senso dove Sensi non ce l'ha Va bene ragazzi Vado Ultimo appello Ultimo appello Poi chiudo Abbiamo bisogno di un portiere Cioè siamo senza portiere La partita del 6 luglio a Roma Contro altri youtuber Loro hanno Cartal Che è un portiere Un signor portiere E noi siamo senza portiere C'è un cristiano Che vive a Roma Che o è portiere O è amico di un portiere Uno Che stia a Roma il 6 luglio Gioca gratis Gioca gratis Vi dico una cosa in più Se c'è qualcuno di Roma Che mi porta un portiere Il portiere Portiere è valido però Sennò mi mettevo io Il portiere gioca gratis Se era qua a Milano lo trovavo Ma a Roma Non ho conoscenze Il portiere gioca gratis E lui Che l'ha portato Sarà invitato a cena con noi E paga la cena Però la paghiamo anche noi Quindi si paga la mangiare Però è invitato a stare con i youtuber Siamo diversi Non so se li sapete Poi ve li trovo a mano Va bene ragazzi Vi saluti Che devo andare a giocare Se vinciamo siamo insieme in finale E speriamo bene Mettete like Iscrivetevi A dopo Ciao Seguitemi su Instagram Che faccio qualche storia Con quelli della squadra Così Se non avete niente da fare Ciao